Il potere non vuole cultura, il potere vuole ignoranza. E sai perché? Perché le persone che hanno una cultura comprano, acquistano soltanto cose che sono veramente utili per loro, veramente che sono buone e giuste, mentre invece gli ignoranti, che sono tra l'altro spesso anche poveri, non è sempre così, comprano qualcosa per far vedere che sono qualcuno. Scambiano, sperano di poter scambiare l'avere con l'essere. Infatti ad esempio sono le persone ignoranti che si comprano tante griff firmate per far vedere ad esempio che sono qualcuno, non si rendono conto che sono soltanto dei poveracci, che sono soltanto mentalmente insignificanti. Il potere ti vuole generare dei bisogni per sfruttarti. Attraverso ad esempio i prestiti, le persone che fanno prestiti e si impiccano diventano schiavi del potere. Il potere ti vuole ignorante.